Quanto costa aprire una società? È impossibile definire un preventivo a priori come abbiamo visto fino adesso. Diciamo che i costi possono variare da poche migliaia di dollari fino a centinaia di migliaia di dollari nel caso magari di grandi capannoni necessari per gestire una logistica o determinate free zone che magari richiedono un deposito cauzionale per poter aprire la società. Posso aprire una società a Dubai e continuare a lavorare in Italia? La risposta a questa domanda è molto dedicata perché se tu hai un centro di interesse in Italia, lavori in Italia e vuoi aprire una società all'estero, non necessariamente a Dubai, per poter fatturare i lavori che continui a svolgere in Italia, ebbene, quello è un reato fiscale. Si parla di esterovestizione. Mentre se tu hai comunque il tuo centro di interesse in Italia ma vuoi aprire una società all'estero per poter espandere il tuo business, beh, questo lo puoi fare tranquillamente, ma sappi che fin tanto che la tua residenza fiscale è in Italia dovrai continuare a pagare le tasse italiane. Quanto tempo devo passare a Dubai? Per la legislazione degli Emirati Arabi è sufficiente che tu non sia fuori più di 180 giorni continuativi per non perdere lo status di visto residente, anche se relativamente da poco danno la possibilità di chiedere una sorta di respiro, di un permesso per poter rientrare come residente, anche se hai superato i 180 giorni. Ma dal punto di vista italiano, per poter mantenere lo status di residenza fiscale negli Emirati Arabi, quindi innanzitutto non devi stare in Italia più di 180 giorni e il tuo centro di interessi deve essere qui negli Emirati Arabi, ma non è specificato un minimo di permanenza. Aprendo la società ho diritto al visto residente? Aprendo la società si ha diritto al visto residente che a seconda delle free zone potrebbe essere o considerato un visto investitore oppure un visto lavoratore perché ti autoassumi come amministratore della società. Ma attenzione, avere il visto residente non vuol dire automaticamente aver spostato la residenza fiscale, sono due cose diverse. Aprendo la società divento automaticamente residente negli Emirati Arabi? No, aprendo la società hai la facoltà di richiedere un visto residente, ma come dicevamo ancora non vuol dire che la tua residenza fiscale è stata spostata qui negli Emirati Arabi. Per farlo devi fare un'iscrizione all'aere che ti richiede, tra le varie cose, di dimostrare che il tuo centro di interessi sia qui, ad esempio con un contratto di affitto. Quali sono i costi per chiudere una società? Anche qui ci sono 40 e oltre free zone, dipende dalla free zone. Possono variare da poche centinaia di euro a qualche migliaia di euro. Anche le procedure possono essere completamente diverse. Questo è uno dei motivi per cui è importante scegliere bene la free zone. Magari mi sono rivolto a una free zone dove ho risparmiato 100 lire, ma nel momento in cui poi devo andare a chiudere la società, magari mi chiedono di produrre una marea di documenti, che ha ovviamente un costo e un dispendio di energie. È lungo il processo per aprire una società? Anche qui ci sono 40 e oltre free zone, dipende dalla free zone che andiamo a scegliere. Possiamo variare dai pochi giorni di apertura della società che richiede IFZA, salvo poi settimane successive per poter fare il visto residente, ad esempio a Jumeirah Lake Towers dove invece la procedura è molto più complessa perché una volta avviata la procedura bisogna individuare una banca, depositare il capitale sociale, dopodiché col capitale sociale depositato si può completare la procedura di apertura della società, insomma è un po' più strutturato, quindi richiede del tempo in più. Si deve depositare sempre il capitale sociale per aprire una società? No, anche qui tra le 40 e oltre free zone ognuna ha le sue procedure. In alcuni casi tipo IFZA viene solo dichiarato, stessa cosa dicasi anche per la free zone di Fujaira, in altri invece deve essere depositato. Grazie a tutti!